Allora, eccoci, con questa ferma immagine, questa è l'iguana marina. Esattamente. Allora, vediamo, teniamo pure l'immagine così capiamo bene. L'iguana marina ha cambiato il colore rispetto a quella terrestre. La terrestre è rossa, l'iguana marina è diventata questo grigio scuro. E ha una forma, vediamo anche, la pelle molto più coriacea. L'iguana marina è l'esempio del dissalatore, ossia si alimenta con un unico tipo di alga in acqua e beve acqua marina. Dopodiché il suo organismo, per mezzo di una ghiandola, separa il sale dall'acqua e vedremo, quando cammineremo in mezzo a loro, che buttano fuori dal naso il sale. Loro lo espellano e trattengono il liquido che gli serve per vivere. Si sono adattate perfettamente. Quando è venuto il nigno, che ha scaldato l'acqua, ha messo a pericolo la vita delle iguane marine, perché è morta l'alga che mangiavano loro, quell'unico tipo di alga. E quindi? C'è stata una moria naturale, sono resistite le più forti e dopodiché ha ripreso, è passato il nigno, perché è una cosa che non è che capita sempre. Il nigno sarebbe un elevato temperatura dell'acqua che fa morire, cioè è capitato l'ultima volta, penso che è stato cinque anni fa, che è passato. Su quello che riguarda poi gli animali delle Galapagos, parlavamo prima della fregata e della sura. La fregata è forse l'uccello più longevo, perché siamo oltre i trent'anni di vita. Questa è la nostra imbarcazione che vediamo. Bella, comoda, cabine molto comode. Quanti eravate? Ma eravamo in pochi, eravamo in otto. Otto persone, veramente stavano benissime. Con una capienza di quanto? Poteva arrivare fino a 16 persone, ma proprio stava benissimo. Qui vediamo i delfini che ci accompagnano nel nostro viaggio. Torniamo al discorso a parlare delle fregate e delle sule. Allora, la fregata, abbiamo visto, ha il gozzo rosso, lo gonfia per richiamare la femmina, e via di seguito, un uccello molto longevo. Ed ecco qua, questa è la fregata. Questa in questo caso è una femmina, di fatti vediamo che è poco sviluppata la parte della gola, che ha la pelle rossa. L'altro animale molto caratteristico, e vediamo anche quanto riusciremo ad avvicinarsi, sono le sule. Le sule, vedendole così belle, così, diciamo, familiari, che si lasciano avvicinare, uno non va a pensare che la sule inizia la sua vita con un omicidio. Cioè? Ossia, vengono deposte due uova. I genitori sanno che solamente un piccolo sopravviverà, il più forte. Quindi, quando hanno un attimo, vengono alimentati tutti e due, dopodiché c'è lo scontro dei due piccoli e uno uccide l'altro. vive il più forte. Questa è la natura, perché siamo in un punto di mare molto anche pericoloso, che per forza può vivere solo chi ha la forza per sopravvivere. Quindi fin da subito. Fin da subito. E quello che è strano è proprio che la natura partano già, come riescono a stare in piedi e a tirar su il becco, vanno già uno contro l'altro. Qui vediamo una colata lavica, perché parliamo che è sempre ad altissima eruzione vulcanica, questo qui è un pellicano, e ogni 5-6 anni cambia quasi completamente la morfologia dell'isola. Ah, perché tuttora ci sono comunque... Tutto ora, sì, 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 sono eruzioni in continuo, in continuo. Guardate, anche questo è un granchio, e adesso vediamo, questo qui qua, proprio mi sono avvicinato, non scappa. Qui sta mangiando una spugna, un pezzetto di spugna. Sono molto belli, molto caratteristici. E qui guardate come mi sta venendo incontro, perché noi, uomini, non siamo visti come nemici. Infatti vediamo la mia ombra per terra, è venuto fino ai piedi. Non hanno paura di noi. Noi possiamo scendere a terra, però avevamo un camminamento, non potevamo uscire. Quando invece gli animali demarcavano, allora potevamo avvicinarsi. Quello è guano. Quello è guano, e qui ci sono i pinguini. I pinguini, però piccoli, questi qua sono piccoli. Solo sull'isola di Fernandina sono i pinguini. Eccoli qua. Il cormorano, la trasformazione che Darwin parlava della trasformazione della specie. Questo cormorano non vola più. Perché non vola più? Perché oramai, guardate la testa, quello che dicevo prima, delle iguane marine, come si è trasformata. Sì, veramente, fa impressione. Sì, comunque sono tranquillissime, proprio non c'è nessun problema. Guardate qui come sono. Non mordono, non sono pericolose. No, 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 assolutamente, proprio non sono assolutamente pericolose. Però sono affascinate, sono belle. Affascinate, sono in grandi concentrazioni, perché loro sono a sangue freddo. Guardate questo granchio come sorpassa l'iguana, come se ne sta sopra. Lei non l'interessa assolutamente, proprio non l'interessa. E a che temperatura c'è? Fuori si arriva ai 30 gradi, perché siamo sull'equatore, ma essendo acqua fredda, guardate la distanza che sono dall'iguana. E non scappa, non ha paura di me. Eccoli qua. Proprio... Non bisogna toccarli. No, assolutamente. Guardate la concentrazione. Se stiamo attenti, vediamo che ogni tanto buttano via questo zampillo dal naso, che è il sale in eccesso, che lo eliminano. Guardate la concentrazione che c'è di questi iguanani. Sono tante, veramente? Eh sì, ma proprio. L'iguana è a sangue freddo, per cui lei stava fino a mezzogiorno a prendere il sole e a caricarsi e andava a mangiare a mezzogiorno quando aveva preso calore sufficiente per poter andare in acqua. Qui, ripeto, c'è l'incrocio di queste due correnti, della corrente leutaria e anche loro al sole, della corrente dell'Antartide e della corrente equadoregna, e condiziona anche tutto il clima esterno, perché essendo un'acqua fredda abbassa la temperatura esterna. Difatti fuori non è che sia caldissimo e alla sera un maglioncino non è male, insomma soprattutto in barca ci si difende bene. Guardate quanto mi posso avvicinare alle acuile, sono acuile di mare queste qui, sono grandi quanto le acuile che abbiamo qua nelle Dolomiti, non hanno assolutamente paura di noi. Io non potevo andare, cioè potevo fare un altro metro non di più, però aspettavo ad avvicinarmi proprio per vedere se si muovevano, ma loro sono rimaste lì e sono andato fino al mio limite. Questa è la formazione della prima sabbia, nel senso che qui abbiamo tutte le conchiglie che poi si sminuzzano e si polverizzano e diventano sabbia, che però chiaramente non c'è il tempo perché ci sono le eruzioni continue e vulcaniche. Impressive. Ma ecco qua stiamo vedendo invece che si può colare il ciclo. Quindi il cormorano che sta facendo il nido. I cormorani nidificano tutto l'anno e prolificano tutto l'anno. Il maschio provvede a portare da mangiare, difatti abbiamo visto che cammina perché adesso non volano più, e la femmina invece accudisce l'uovo e il maschio provvede ad alimentare sia la femmina che il nascituro quando arriva. Ecco è un mare ricco. Un mare ricchissimo di pesce, ricchissimo, veramente ricco. Ecco qua, siamo in un gruppo vacanze Piemonte, siamo vicini al nostro bellicano che non scappa. Ecco qui vediamo un'autaria che si toglie i parassiti strusciandosi nella sabbia. Qui vediamo com'è cambiata perché la marea portando su e giù le conchigliette, le rompe e le sminuzze forma la sabbia. Questo è l'arco di Wolf. Abbiamo due archi, l'arco dedicato a Wolf e l'arco dedicato a Darwin. L'arco dedicato a Darwin è proprio all'estremo nord delle Galapagos. E' il punto più lontano dove abbiamo fatto le immersioni più belle con, eccolo qua, e questo è lo squalio, vediamo proprio in fondo lo scoglio di Darwin, dove abbiamo fatto le immersioni più belle con gli squali martello. Sempre in questa occasione qui. Sempre in questa occasione qui. Qui c'è la corrente da stare veramente attenti. Ecco qua le sule. Quello che parlavamo prima delle sule che depongono due uova e solo un piccolo sopravvive. Ma guardate, allora intanto erano qui, noi stavamo in barca e a quel punto abbiamo iniziato ad avvicinarsi sempre di più. Le più belle sono quelle, ecco guardate qua come mi sto avvicinando e non scappano, assolutamente. E pensare che questo uccello inizia, che quando è piccolo ammazza il fratello, è un po' incredibile. Guardate come sono socievoli, veramente socievoli e quanto si lasciano accarezzare. Ecco, logicamente io ho anche forse un po' esagerato, ma guardate come restano lì. Ecco, peccato, adesso mi ha dato via l'altra. Ecco qua. Ma sono veramente, veramente incredibili. Non vedono assolutamente l'uomo come un pericolo. Per fortuna. Per fortuna. Vuol dire che non vengono assolutamente... Ma tutti gli animali che sono lì, ecco, qui vediamo, ecco, questo è l'arco di Darwin. Però c'è mare mosso, ci sono correnti. Sì, sì. No, sicuro, questo è l'arco di Wolf, ho sbagliato. Darwin è quello più grande. Qui il problema è la corrente. Quando si fa l'immersione, ecco qui, adesso abbiamo Carlos, che facciamo... La lezione preliminare. Il briefing, la lezione preliminare. Qui siamo a Wolf. E che cosa vi insegna, esatto? Qui ci spiega la radio. Perché appunto, essendo una corrente così forte, possiamo essere portati via dalla corrente. Ma avrebbero già i brividi per questo. Quando si è portati via, si accende la radio e si resta ad aspettare. Logicamente è consigliato, si butta via quello che è i piombi per galleggiare meglio e si resta in attesa. Però certo non è piacevole, soprattutto c'è una frequenza, una presenza nutrita anche di tanti squali. Ricordiamoci che quando siamo in superficie, noi creiamo delle onde come fossimo degli animali feriti, per cui facilmente potrebbero attaccarci. Avevate i guanti? Sì, sì, ci lasciamo non mettere i guanti. Qui non c'è barriera corallina. Qui abbiamo un terreno vulcanico. E quindi è vulcanico sotto, è tutto scuro. E non c'è problema di rompere i coralli, quello che può essere un altro mare tropicale. La mia, con l'acqua così fredda per entrare in acqua, è un impatto, no? Sì, è un po' un impatto, esatto. Però, ripeto, con la muta da 5 minuti facevamo 40 minuti di immersione. E qui adesso inizia la parte subacquea del santuario delle Galapagos. E qui vediamo le otarie che guardate in acqua sono una cosa. Vicine, vicine, vicine. Loro vengono a giocare con noi. Proprio sono loro che vengono a giocare. Non accettano che noi giochiamo con loro. Reagiscono. Cioè cosa fanno? Cercano di mordere. Ah dai! Se tu allunghi la mano magari le vuoi accarezzare. Cercano di darti un morsico. Ma fortunatamente, ma poi guardate come si muovono. Guardate come è una cosa veramente bella. Sembra che veramente si divertano. Sì, 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 sì. Ma il fatto che ad esempio ci siano le foche nei circhi. Loro sono giocarellone di natura. Quindi vengono addestrate anche a fare qualcosa che le piace. Non sono d'accordo sugli animali nei circhi. Ma comunque lasciamo stare. Ecco, qui vediamo come prende questo riccio matita. E se lo porta in superficie lo molla. Qui vediamo sono in superficie qui. Tranquille. Avete visto anche dei piccolini? Sì, sono anche piccolini. Veramente. Eccoli qua. E questa è la parte. Ecco, qui gioca con un sasso. Guardate come se lo porta giù e lo riporta su. Ma sembra quasi voglia farsi vedere da voi. Sì. Ma di fatti ci vedono con le telecamere. Allora si adattano a farci da posa, da attrici. Eccoli qua. E queste invece che dimensioni hanno rispetto a voi? Beh, direi che è abbastanza grandina per quello come otaria. Questa è più piccola. Ma sono sempre sui... Come peso siamo sui 60 kg di animale. C'è un animalino abbastanza grandino da questo punto di vista. Eccole qua. Qui vediamo la prima formula. Sono le gorgonie filiformi gialle che sono caratteristiche delle galapagos. Perché sono... Che caratteristica presenta? Non fanno il ventaglio. Le gorgonie di solito sono a ventaglio. Queste qui invece sono tutte filiformi. E sono molto caratteristiche. I pesci, guardate, il pesce imperatore, di solito anche nei mari tropicali, scappa via e via di seguito. Qui invece ci andiamo proprio vicinissimi, proprio senza problemi. Allora, torniamo dopo i nostri pesci, bellissimo effettivamente, che stanno mangiando e tutto. Qualche secondo di pubblicità. Torniamo insieme tra poco allora. Grazie a tutti.